Dai 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 Che c'è? Che c'è? Non mi sento tanto bene Senti un brivido Sto tremando, sto tremando Quanto tempo ti manca per esser pronta? Un minuto, anche tre Ti muovi Perché, perché, perché? Vado di fretta Cosa ci fai qui? Vomito anche l'anima Apnea Dove andremo poi? Apnea Che basta sia l'antana alla gente Casa mia, ma vuole cosa tua Ti ho fatto entrare nel mio disordine Bel casino Cinque cellulari nella tuta gold Ma che te ne farai?